Buonasera a tutti. La giornata si è svolta del seguente modo. Al mattino la Messa è stata celebrata per gruppi linguistici. Abbiamo iniziato con la preghiera della mattina sulla dimensione del liderazgo, del leadership nella congregazione, specialmente sulla missione. Per iniziare i lavori del giorno su questo tema abbiamo avuto un pannello con cinque confratelli di ogni conferenza. Loro hanno condiviso la loro esperienza circa il leadership. Questa è stata un'esperienza abbastanza interessante nel mattino per iniziare veramente i lavori. Dopo abbiamo passato al testo di lavoro. Ognuno ha potuto leggerlo, fare la sua meditazione personale e si è passato dopo ai piccoli gruppi. I piccoli gruppi abbiamo discusso su leadership per la missione. Che tipo di leadership abbiamo necessità per la missione di oggi, in questi tempi. Nel pomeriggio abbiamo avuto la plenaria e la discussione circa questo tema. Le discussioni sono state molto interessanti e abbiamo continuato con queste cose. I contributi sono stati molto positivi. Questo vale risultati. Dopo le discussioni sul tema della leadership abbiamo avuto un altro pannello con i nostri laici. Abbiamo ricevuto cinque laici di ognuna delle conferenze che hanno condiviso loro le loro missioni e anche il rapporto con i nostri confratelli, la dimensione della leadership nella congregazione. E alla fine abbiamo passato sul programma della terza settimana. La prossima settimana è una settimana molto speciale per la elezione del nuovo governo generale e anche per continuare i temi che stiamo lavorando in questa settimana. È stata una giornata intensa, molto profonda e che ci ha portato molte riflessioni per aiutare a pensare sulla dimensione del leadership nei giorni attuali.